E' arrivata l'ufficialità dunque CR7, è un nuovo giocatore della Juventus La notizia che tutti noi tifosi della Juve sognavamo è realtà, è realtà Io ancora sono qua che mi pizzico, mi pizzico, non mi sembra vero Eppure è così, è così, incredibile ma la Juve trova veramente un affare Chiude un affare, l'affare del secolo Perché veramente credo che non ci sia mai stato in Italia un'operazione del genere Non tanto sul piano tecnico ma quanto sul piano di merchandising e finanziario Cioè Ronaldo ti garantisce veramente un bilancio e un fatturato Un aumento del smisurato del fatturato Quindi veramente sono contento, pensate che ero a Rimini durante... Stavo guardando un evento dove c'erano delle mie copie che partecipavano E vedere, praticamente mi sono trovato l'annuncio Praticamente giusto durante una pausa Ho letto la notizia, mi si è aperto il cuore insomma E veramente ragazzi sono veramente contento Sono veramente contento Perché erano anni che la Juve non chiudeva per un giocatore di questi livelli Ha preso Tevez, ha preso giocatori veramente forti Ma Ronaldo ragazzi, io credo che Cristiano Ronaldo sia attualmente ancora il miglior giocatore del mondo Poi è chiaro che nel corso degli anni con cui ha firmato per 4 anni Quindi probabilmente sicuramente calerà un po' Non è che Cristiano Ronaldo sarà per 4 anni quello di adesso Però onestamente averlo preso Anche proprio come dire a livello di merchandising Credo che sia il capolavoro della famiglia e della società Juve Marotta e Paratici dimostrano di essere due dei migliori dirigenti del mondo Perché per chiudere trattative del genere O se è un fenomeno o se è un fenomeno Benvenuto CR7 Non vediamo l'ora di vederti con la maglia bianconera Dovrebbe essere la presentazione lunedì Sarebbe bello, staremo a vedere Chiaramente ce l'auguriamo tutti Intanto comunque possiamo dirlo È ufficiale CR7 È un nuovo giocatore della Juve A me non resta che salutarvi E darvi appuntamento con i prossimi video Grazie ancora Società Juve per questo regalo davvero eccezionale Anche in estate fino alla fine Forza Juventus